Siamo all'interno del convento di Santa Maria delle Grazie. Ecco la statua che oggi ci girerà per le strade più importanti della collina qui ad Avellino. Ecco, la statua è molto bella, è tutta ornata, vedete la Madonnina è stata ornata di oro sia la Madonna che il bambino, questo è un culto che fu portato dai Francescani intorno al Cinquecento nella città di Avellino, anche questo bellissimo altare. Ma a parte questo noi vogliamo fare gli auguri a tutti nel nome proprio della Madonna delle Grazie, a tutti i telespettatori, a tutti gli ammalati e che Maria possa veramente portare pace e salute a tutta la città di Avellino e a tutto il mondo. E a lei noi affidiamo la nostra vita. Arrivederci da Paolo Matarazzo, dal convento di Lampa Santa Maria delle Grazie e auguri a tutti, a tutte quelle che portano il nome di Maria Grazia, con tutto il cuore, dal cum pane. Arrivederci, buona giornata.